Parliamo un attimo dell'Europa, intanto voi, lei pensa che voi abbiate fatto bene a non entrare nell'Euro? È stato un bene per voi? Sì, visto da oggi è stata una decisione giustissima per le regioni prevalenti a quell'epoca, perché le condizioni non erano lì per un'assalta nel buio per l'Inghilterra. Ma adesso i nostri interessi sono chiari nel successo dell'Eurozona, la prosperità d'Italia, la prosperità dell'Eurozona e la prosperità del Reino Unito.